Egman 2018 siamo allo stand Fantic dove campeggia questo nuovo Fantic Caballero 500 Rally è un aggiornamento del Caballero 500 che già c'era con il mono cilindrico da 449 cm3 e 43 cavalli le novità sono rappresentate da un diverso manubrio dalle protezioni sul fanale anteriore da sospensioni maggiorate con la forcella regolabile nell'idraulica e dal forcellone in alluminio guardate come bella e grintosa la moto è anche molto leggera pesa appena 150 kg l'ideale praticamente per affrontare percorsi off-road anche di un certo impegno perché questa è per la luce a terra per la scolpitura delle coperture per le sospensioni sicuramente adatta qualcosa di più che non una semplice scrambler molto piccolo ma comunque curato nel design la strumentazione tutta raccolta in questo strumento digitale circolare cosa ne pensate io trovo che il design sia veramente vincente mi piace moltissimo molto caratterizzata di grande personalità fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti seguiteci su tutti i nostri canali social su motorbox.com se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi live e lasciate un like alla pagina io vi do appuntamento al prossimo video ciao